Good morning, good morning a tutti e a tutti, good morning Milano, 7.07 lunedì 27 maggio, ben ritrovati, ben ritrovate tutti quanti, tutti quante, qui sulle frequenze del 96.2 FM di Crystal Radio e anche sul DAB Plus, lo sapete siamo in tutta Lombardia grazie al DAB Plus, ma siamo anche nel vostro smartphone grazie alle app per iOS o Android, come sempre qui fino alle 9 per raccontarvi un po' tutto quello che succede, funziona tutto senza problemi, come sempre qui su Crystal Radio, Milano All News, lo sapete potete trovarci anche sul nostro sito, poi dopo c'è anche Spotify e sì perché su goodmorning.milano.it avete tutte le indicazioni su dove potete ritrovarci e risentirci poi con calma anche durante la giornata se volete o anche i giorni dopo se volete sentire magari i momenti più importanti con i nostri ospiti, i nostri collegamenti che facciamo tutte le mattine, qui appunto in diretta. 3317853555 è il nostro numero di Whatsapp con cui potete partecipare, essere protagonisti, essere il nostro fil rouge che percorre tutta la mattinata di Crystal Radio, che sapete inizia con noi ma poi va avanti anche con il resto della programmazione. Insomma un menù sempre molto ricco, tanti agli appuntamenti di oggi che iniziano appunto con noi qui la mattina con Good Morning Milano ma poi vanno avanti e anzi iniziano con un po' di musica e quindi ben ritrovati. Buongiorno ancora a tutti, a tutte e iniziamo con un po' di musica. Achille Lauro con Stripper. I don't know, Achille Lauro Stripper, alle 7 e 11 minuti e inizia appunto una nuova settimana, ce lo dice anche Alberto al 3317853555, dice dopo l'energico brano del cristallisto che abbiamo sentito appunto in apertura di trasmissione, parte una nuova settimana, un saluto a Fabio e a tutti i cristallini e poi chiude con una domanda, pioggia? Non c'è risposta a questa domanda, ormai non c'è risposta a questa domanda perché allora sui vari siti, abbiamo guardato il metodo questa mattina, la mattina danno precipitazioni assenti, quindi ce n'è anche più, scrivono, sono nuvoloso, ti dicono già no, non piove, tranquillo, non ti angustiare, non piove. Però poi arriva perché intorno alle 8 ci sono piogge schiarite, che vuol dire che continua a farsi un po' sì e un po' no, cioè non è così chiaro. Poi dopo temporali intorno alle 8, nubi sparse con qualche pioggia intorno alla tarda mattinata, pomeriggio dice nubi sparse, quindi non dovrebbe piovere, però insomma davvero non è per niente semplice. Capire il meteo, insomma non ci sono più certezze, lo sapete non ci sono più le mezzestagioni, qualcuno dice non ci sono più certezze, dico io, tra cui ad esempio quella del concerto di Bruce Springsteen. Perché? Magari l'avrete letto, è uscita la notizia tra ieri e l'altro ieri, è arrivata la conferma, ha spostato il grande ritorno previsto per l'1 e il 3 giugno. Sto leggendo da Repubblica Milano, Bruce Springsteen posticipa i concerti milanesi, problemi di voce, presto l'annuncio delle nuove date. A San Siro dopo 8 anni di assenza non potrà esibirsi per 10 giorni, le nuove date saranno annunciate a breve. Era nell'area appunto già da santo pomeriggio quando si diffusa la decisione in Estremis di cancellare lo show di Marsiglia. La notizia ufficiale viene pubblicata appunto sull'account Instagram di Bruce Springsteen. Due date di San Siro dell'1 e 3 giugno, il ritorno del boss con la East Street Band dopo 8 anni di assenza, vengono posticipate a data di destinarsi. E io so che sarà la mia carissima amica Chiara Scacabarozzi che in questo momento sarà sconvolta da questa notizia, che so che ha già preso i biglietti praticamente 8 anni fa, quando è arrivata l'ultima volta Bruce Springsteen a Milano. E niente, quindi posticipate le date. Colpa dell'improvviso abbassamento di voce che ha colpito Springsteen dopo la data di Sunderland il 22 maggio scorso appunto, data del suo tour, che oggi lo costringe anche a spostare il concerto appunto del 28 di maggio, cioè di domani a Praga. Quindi ha detto così, dopo il rinvio di Marsiglia, dovuto a problemi vocali, ulteriori esami e consultazioni hanno spinto i medici a decidere che Bruce non dovrà esibirsi per i prossimi 10 giorni. Di conseguenza, ulteriori esami si rendono necessari per tutto quanto e quindi anche a Praga, dove doveva fare un concerto all'aeroporto Letani e lo stadio San Siro di Milano, originariamente previsti per l'1 e il 3 giugno. Quindi niente Bruce Springsteen e quindi niente ritorno del boss dopo 8 anni. immagino che insomma un bel 160, 160 no, 150 mila persone, due date a San Siro, più o meno è quello. In questo momento non saranno proprio per niente contenti. Ve lo faccio ascoltare allora il boss, dai, quello che possiamo fare. Born to run. Bruce Springsteen, Springsteen, Springsteen. Vedete, con problemi di voce non puoi dire neanche Bruce Springsteen. E' così, eh sì, e niente, dovete rimandare. Rimandati quindi i concerti di Bruce, del boss, al stadio di San Siro dell'1 e del 3 giugno e quindi chissà. Però se per caso volete venire a Milano così o in Lombardia, volete venire da fuori regione ad esempio, a venire allo stadio di San Siro a sentire Bruce e il boss e non sapete cosa fare, bene, ci arriva in aiuto il New York Times perché, leggiamo da Repubblica Milano, il New York Times stila la guida definitiva dei piatti di pasta italiani e domina la Lombardia tra giganti e outsider. Viva il marketing e viva il clickbaiting. No, nel senso non è vero, allora la notizia è questa, però poi fa un po' ridere se andiamo a leggere cosa. Perché? Il pacchero di Cerea, il tortello dei Santini, ma anche i pizzoccheri di Gianni Tarabini e le orecchiette di Osteria Ricci, più tradizione che avanguardia dei quattro piatti su 25 italiani segnalati dal New York Times. Lombardi do is better, in cucina i Lombardi lo fanno meglio, vale la regola anche quando si esce dalla formula 1 del risotto e si entra nell'altro emisfero del mondo dei primi piatti, quello delle tagliatelle spaghetti ravioli and company. Il sigillo è l'autorevole New York Times che, nello stilare la lista dei 25 piatti di pasta migliori in Italia, inserisce ben quattro indirizzi Lombardi e fa della Lombardia la regione più segnalata. Però attenzione ragazzi, adesso va bene tutto, ma è ovvio che sia così, anche perché siamo la regione più popolata d'Italia, quindi abbiamo il numero più alto di ristoranti, sicuramente i ristoranti in Puglia si sono ammazzati tra di loro per poter fare le migliori orecchiette, i ristoranti in Emilia Romagna si sono ammazzati tra loro per fare le migliori tagliatelle o i tortellin, però poi dopo capite che è ovvio che noi stiamo... è sempre così, la Lombardia è quasi sempre nelle prime posizioni delle classifiche, ma per un problema meramente di numeri, cioè il merito non è di quello che facciamo, di quanti siamo qui anche perché se poi andiamo a vedere cosa troviamo... Allora, mi piace poi che il giornalista dice, perché se è impossibile immaginare una classifica senza il celebre pacchero alla vittoria preparato dai fratelli Enrico e Roberto Cerea nel tristellato di Brusaporto, va bene, contento tu, sono sicuramente outsider le orecchiette coi broccoli di Osteria Ricci, che quindi sapete già che le orecchiette coi broccoli non è un piatto però tipico lombardo, quindi lo fanno qui, ma lo fanno a Milano, però non è un tipico piatto lombardo. Nell'insegna milanese firmata da Antonella Ricci e Vinod Soccar, ma dove il cosiddetto chef residence è il partenopio Francesco Bordone, quindi è un napoletano che comunque li fa, cioè nel senso è chapeau a Bordone. 29enne di San Giorgio a Cremano che la passione feroce per il mestiere di Cuoco. Vabbè, manca un che ha, credo, manca uno scritto sbagliato, ma ci sono rifusi tutti i giorni, tutti i giorni sono rifusi su tutti i giornali. Poi cosa abbiamo? Ovviamente i tortelli di zucca a mantova, della frazione di cannetto sull'olio, c'è la famiglia Santini e Runate, e poi i pizzocchi rivaltellinesi della scommessa della Florida di Mantello. Allora, nel senso, ci stava. Capite quanto è anche gigante e grossa la nostra regione, che può dare tante cose, ma poi posso dire, ah, siamo i più fighi, tutto quanto. Quattro ristoranti, quando invece Emilia Romagna, Campania e Lazio ne hanno tre. Cioè non è che sono il loro uno e noi diciotto. Ci sta. Scusate se io sto sempre a sminuire, però io credo che questo racconto così pompato di Milano e della regione Lombardia non è che faccia proprio benissimo, perché poi si pompa, si pompa, si pompa, si alza l'hype e poi alla fine c'è sempre traffico, perché luce verde! IBCs con lo Stayin'Alive alle 7.27 qui su Crystal Radio, oggi lunedì 27 maggio. Ma lo sapete cosa succedeva il 27 maggio di 25 anni fa? Cioè il 27 maggio del 1999 usciva un brano che è di un altro storico mitico solo già dal primo ascolto che tutti quanti abbiamo ballato all'istante. Sto parlando di 50 special dei Luna Pop. Ebbene sì, 25 anni, un quarto di secolo e quindi ce l'ascoltiamo i Luna Pop con 50 special. H7, Notte Fonda. Buongiorno ancora a tutti, buongiorno ancora a tutte. Buongiorno anche a chi ci sta scrivendo dai vari Whatsapp, come ad esempio Adriana che scrive buongiorno Fabio, ci voleva proprio un po' di carica, grazie di ascoltarci. Adriana speriamo appunto con 50 special, credo che si riferisse a quello, poco fa appunto abbiamo ascoltato 50 special che compie, pensate, 25 anni, un quarto di secolo per quella canzone che è davvero è una di quelle canzoni che dal primo ascolto mi ha detto, no ma questa cos'è? Questa spacca, questa spacca. E infatti, insomma davvero dal primo ascolto erano i Luna Pop, pensate, primo alum dei Luna Pop, la prima hit che è uscita, il primo singolo di un gruppo praticamente sconosciuto che nessuno sapeva neanche chi fossero, questi due ragazzi, due, tre, non so neanche quanti fossero, diciamo che su tutti, insomma, erano due quelli che passavano un po' di più, che erano Cesare Cremonini e Ballo, erano quelli che poi dopo hanno portato avanti anche il progetto Cesare Cremonini, insomma, un quarto di secolo, sembra ieri che la cantavamo, la ballavamo, poi soprattutto nel weekend ne discutevo in casa di questa cosa qui, dicevo come davvero è stata una canzone simbolo di proprio una sensazione che c'era, nonostante secondo me c'era una piccola nota, nel senso che, ad esempio io e Cremonini abbiamo la stessa identica età, la Vespa 50 special non era il motorino di quando eravamo ragazzi noi però, cioè non era un simbolo dell'essere libero, cioè se l'avessimo scritta a Milano sarebbe stato come bello andare in giro sui navigli con il booster, capito? O con l'F10, cioè quella roba lì, la Guti, queste robe qua, no? Era un retaggio, ora prima di tutto molto probabilmente invece, che ne so, a Bologna invece era magari più utilizzata veramente la Vespa 50, ma era magari anche un po', ed è forse quello anche che ha decretato il grande successo di quella canzone, lo strizzare un po' l'occhio anche alla generazione precedente alla nostra e quindi a quelli che veramente quella Vespa 50 special voleva dire libertà e indipendenza per loro. Pensate, se nasceva a Milano, ma com'è bello andare in giro sul naviglio con il booster, cioè veniva così, capito? Forse non era effettivamente lo stesso successo. Buongiorno anche a chi? Buongiorno e buon lunedì da quella di Bergamo. Ah, vedi? Già 25 anni, ricordo ancora lentamente l'estate in cui i Lunapop vinsero il Festival Barsi. Grazie Fabio per avermi reso chiaro quanto sono vecchia. Siamo tutti nella stessa barca, sì, anzi, siamo tutti sulla stessa Vespa. Ebbene sì, 25 anni fa, poi vinsero il Festival Barsi, era stato un successo pazzesco fin dal primo giorno. Ebbene sì, ebbene sì. Weekend, quello appena passato a Milano, soprattutto a Milano, dicono weekend, quello appena passato, a Milano è importante per la musica perché c'è stato il Miami Festival, lo sapete, tutti gli anni, quest'anno quattro giorni, è iniziato giovedì con il concerto del CCCP con Fedeli e la linea, sono tornati, una reunion, in realtà al carro ponte hanno fatto comunque il concerto. Però era comunque dentro all'interno del Festival Miami che dopo invece, come sempre, si è trasferito nel venerdì, sabato e domenica al Circolo Magnolia, all'Idroscalo e ha visto passare praticamente chiunque. Cioè, se guardate i vari concerti, sono quattro palchi, cinque, quattro palchi più un'arena. è passato chiunque dalle 18 di venerdì fino alla mezzanotte, diciamo, di domenica sera. Veramente chiunque. Tra questi, sono passati i miei amici Selton, che vi saluto come sempre, passati, se non sbaglio, sabato e domenica già in partenza per il Brasile perché hanno un tour in Brasile. Andate ad ascoltarvi Selton che è veramente qualcosa pazzesco. Ah, mi dice Nello che Cremonini possiede ancora una Vespa 50 rossa della canzone. Vedi, ecco, grazie Nello per la precisazione. E poi, dicevo, al mi ami chi c'era, c'era anche Dito nella piaga che quindi ci andiamo ad ascoltare adesso con una canzone che forse è una parola più al successo insieme a Donatella Rettore. Sto dicendo, e sto parlando di Dito nella piaga e Rettore con Chimica. Chimica, Donatella e Rettore e Dito nella piaga insieme appunto per questa grande canzone Chimica alle 7.42 minuti. Dito nella piaga è stata fantastica, al mi ami ci dice Adriana al 331 7853555 è un appuntamento che non si può perdere tutti gli anni uno degli appuntamenti più importanti della musica a Milano veramente forse il festival di Milano mi piace pensare che un po' abbia preso il testimone del famoso festival di Renudo quello famoso di Lambrate forse nessuno ho detto la stupidaggine nessuno può prendere quello scettro o quel no, no nessuno nessuno può prendere comunque attenzione perché quando si parla di festival quando si parla di concetti d'aperto tutti immaginano l'immagine di Woodstock con il fango e beh la possibilità c'è comunque ancora anche a Milano perché leggo da Milano non si ferma non si ferma il maltempo a Milano ancora piogge temporali non capisco perché questo entusiasmo nel legge però sinceramente chiedo scusa piogge e temporali caratterizzano l'ultima settimana di maggio e i primissimi giorni di giugno wey cicci fermi un attimo però ecco i dettagli di Trebimeteo ma non ci avevate detto che finiva tutto a fine mese già ad aprile me l'avete detto però finisce tutto entro fine mese ad aprile e siamo arrivati a maggio finisce tutto entro maggio a fine mese maggio no i primi giorni di giugno e no wey cicci non va bene così comunque vabbè ebbene sì piogge temporali ancora a Milano sarà una settimana caratterizzata dal maltempo quella che terminerà domenica 2 giugno lo hanno messo oggi è scritto così lo hanno messo nero su bianco i meteorologi di Trebimeteo interpellati da Milano Today allora vabbè se lo mettono nero su bianco loro cosa possiamo farci una perturbazione raggiungerà la Lombardia all'inizio della nuova settimana determinando un peggioramento a partire dai settori occidentali dove nel corso della giornata di lunedì giungeranno le prime piogge ha spiegato appunto Lorenzo Badellinom esperto del portale ma perché esperto io non capisco esperto del portale vuol dire che sei esperto di un portale non che sei un meteorologo cioè perché usano questa parola esperti possiamo Milano Today siete voi sempre lo scrivete possiamo trovare una parola diversa si chiama meteorologo oppure direttore oppure direttore oppure firma importante del portale cioè non lo so no esperto del portale sembra che sei esperto di cose quali clicca qui poi se clicchi lì invece vedi quello guardi io che sono esperto del portale le dico che se va in fondo nel menu sotto cioè quello è un esperto del portale comunque vabbè sta di fatto che come sempre non sappiamo quando quindi questo meteo andrà a migliorare veramente non se ne può più signora mia non ci sono più le mezze stagioni ma sinceramente davvero sta diventando veramente veramente lunga stavolta perché siamo qui dicono che fino a fino al weekend cioè nel weekend per il 2 giugno dovrebbe in teoria incominciare a migliorare il tempo però io ho paurissima perché questo vuol dire che se poi il 2 giugno smette di piovere e non riattacca a piovere fino al 9 di settembre qui siamo avete capito cosa sto dicendo rischiamo che al 9 di giugno poi dopo una settimana già ci sono 40 gradi perché poi questo cioè ieri comunque a Milano abbiamo raggiunto pezzi picchi di 27 gradi quando l'altro ieri ce ne erano 15 quindi insomma non è infatti poi dopo Bruce Springsteen ma la gola non fa i concerti ecco perché sarà per quello comunque va bene mercoledì ci sarà qualche timido raggio di sole ma tuttavia il bel tempo non durerà così dice Trebimeteo la giornata di mercoledì comincerà in prevalenza soleggiata ma in una seconda perturbazione raggiungerà la nostra regione in serata provocando un nuovo peggioramento con piogge temporali sulle zone alpine prealpine e sulla decenti aree di pianura e vedi tutta Lombardia è fatta così Lombardia è Alpi prealpi e pianura non so cosa dirvi comunque sta di fatto andiamo con un po' di musica che al Miami c'erano anche altri che hanno suonato e Adriana ci dice segnalo anche degli eccezionali Exo Tago e Willy Peiote e poi Aurora Borealo che ha portato un bellissimo musical sul fascismo che è stato acclamatissimo ci ascoltiamo allora Willy Peiote Willy Peiote è la tua futura ex moglie Willy Peiote anche lui appunto al Miami insieme a tantissimi altri abbiamo detto questo weekend a Milano al ciclo Magnoglio insomma che è un po' anche poi l'inizio della stagione dei concerti diciamocelo in realtà a Milano ci sono concerti tutto l'anno devo dire che ormai non c'è weekend dove non ci sia un concerto a Milano e benvenga nel senso meno male sono ben contento di questo il Miami da un po' l'inizio diciamo alla stagione estiva dei concerti tant'è che appunto iniziano poi domani dopo domani appunto ci sono i Metallica qui al di Podromo San Siro doveva esserci Bruce Springsteen il primo giugno e il tre giugno però insomma ci sono appunto i concerti che arrivano dei grandi nomi ma devo dire che il Miami ormai non è che ha nomi meno blasonati perché insomma nasce sicuramente come un festival diciamo della musica indipendente chiamatela come volete ma sta di fatto che poi alla fine sono tanti i nomi che ormai sono anche un po' più mainstream Milano è quella città che ogni settimana ogni giorno ti dà tanto da fare il mio weekend o meglio la mia il mio sabato è stato scandito da questo rumore lo sentite? che cos'è? eh vedete tling tling ecco cos'è è una macchina da scrivere perché è una macchina da scrivere è stato il rumore il sound del mio sabato perché ha finalmente aperto siamo ben contenti anzi salutiamo gli amici di Edicola Lambrate perché ha aperto Edicola Lambrate questo progetto bellissimo che abbiamo avuto anche ospite qui più di una volta e che sentiremo comunque ancora dove potremo eh anzi in teoria domani noi ci collegheremo con loro domani mattina faremo una chiamata con Edicola Lambrate per sapere come è andata appunto i primi giorni d'apertura ma eh questa Edicola che era chiusa è stata riaperta da un gruppo di pazzoidi possiamo dirlo di matti furiosi che è bellissimo per avere in città tra cui Paloia Bichino Agli Osce dei Casino Royale e Alessandro che è l'edicolante colui che appunto è lì anzi l'edicolante colui che è lì a fare l'edicolante e poi ci sono gli edicolante cioè coloro che aiutano l'edicolante a fare progetti a portare anche non solo appunto i giornali ma tanti libri in merita e anche tanti residenze d'artisti cioè degli artisti che vanno lì e fanno delle cose come ad esempio Davide Tocco che ho avuto il piacere di incontrare e conoscere Sabato che con la sua macchina da scrivere Olivetti crea dei veri e propri quadri dei veri e propri pezzi d'arte tutto nasce un po' poi mi spiegava appunto lui è sardo lui arriva da Villa Massargia Massargia Villa Massargia che non si chiami appunto è questo lui usa una Olivetti in questo caso dove ha Olivetti da viaggio è una Olivetti arancione bellissima con cui appunto lui con i caratteri della macchina da scrivere crea dei pattern crea dei disegni crea delle scritte crea un po' di tutto è nata la sua passione per la calligrafia facendo un corso di calligrafia e poi ha capito che poteva evolversi anche nell'utilizzo della macchina da scrivere inizialmente facendo dei pattern che richiamassero anche la trama dei tappeti che vengono utilizzati in Sardegna nella sua zona e poi appunto si è evoluto c'è stato bellissimo potete andarlo a cercare Davide D. Touch lo trovate su Instagram Davide Tocco comunque se lo cercate su internet lo trovate sicuramente Davide underscore Tocco anche c'è su sul suo su Instagram appunto Davide underscore Tocco ok Davide D. Touch il suo username lo trovate e vedete le sue opere che sono davvero molto interessanti molto belle c'era anche il suo libro in vendita lì all'edicola Lambrata insomma questa edicola che io sono rimasto lì un po' a vedere anche un po' come era il passaggio della gente la gente che passava stupita di rivedere finalmente questa edicola aperta comprare il giornale sentirsi anche a un certo punto dire guardi l'ho finito è stato bellissimo c'era una signora arrivata e ha chiesto avete la stampa signora l'ho finito questa mattina proprio sono andate via tutti era pomeriggio quando sono andato io era già finito quindi insomma vuol dire che anche la gente incomincia a rivivere un quartiere bellissimo in via Conte Rosso Lambrata è un luogo pazzesco con ieri appunto cioè sabato c'era questo bellissimo sottofondo che erano il battere sui tasti dell'Olivetti di Davide Tocco appunto che ha fatto queste opere le potete vedere sono opere calligrafiche di testo di immagini fa anche dei cerchi le robe pazzesche riesce a fare delle curve con la macchina da scrivere riesce a fare le linee curve con la macchina da scrivere che trovo davvero impressionanti e le fa anche di grandi dimensioni perché poi piega i fogli li mette dentro ha fatto un'insegna diciamo di Dicola Lambrate dove con la E ha fatto tutte le E con la L ha fatto tutta la cioè con il fonte della L capito il carattere L ha fatto una L grande con l'A ha fatto delle A grandi per scrivere proprio a Dicola Lambrate bellissimo davvero complimenti Davide Tocco complimenti ad Alessandro l'edicolante di Dicola Lambrate complimenti a tutti gli edicolanter e a tutto il gruppo che sta facendo e portando avanti questo bellissimo progetto Mia Martini con Minuetto il Crystal History delle 8 poco prima ancora di iniziare la seconda parte di trasmissione con voi vi ricordo anche un appuntamento che mi è stato segnalato sia da Nello che da Alberto questa mattina perché insomma ha a che fare con il mondo di Crystal Radio e quindi è giusto che lo si ricordi e si inviti tutti quanti ad andare perché insomma è davvero qualcosa di bello perché il Decoro un gospel ricordate è un coro che seguiamo spesso e volentieri di Crystal Radio il Decoro fa un concerto il 13 giugno alle ore 20 e 30 dove all'Istituto Pedagogico della Resistenza invia degli Anemoni 6 a Milano ingresso offerta libera e il concerto pensate sarà pure comprato da Oro in Fresco quindi ecco sanno bene cosa scrivere sulle locandine per convincermi ad andare ai concerti il Decoro appunto Summer Night il 13 giugno alle ore 20 e 30 su su Crystal Radio no in collaborazione con Crystal Radio all'Istituto Pedagogico della Resistenza via degli Anemoni 6 Milano zona ovest l'Orenteggio diciamo primaticcio da quelle parti lì ok giusto per farvi per darvi un'idea più o meno di dove si può ubicare il luogo ok va bene dai andiamo ancora un po' di musica vi va dai andiamo con i Rockets con Galactica Rockets con Galactica le 8 e 15 minuti Crystal Radio good morning Milano buongiorno ancora a tutti e a tutti a coloro che sono in ascolto oggi lunedì 27 maggio lunedì 27 maggio non so se fosse lunedì 85 anni fa ma il 27 maggio di 85 anni fa ci fu la prima apparizione di Batman cioè non che qualcuno vide Batman così saltare da un cartello all'altro da un balcone all'altro no 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 uscì la prima la prima volta appunto in una striscia in una striscia di fumetti come si dice una striscia sì un comics esce il personaggio di Batman appunto il 27 maggio del 1939 e beh insomma Batman uno di quelli che è stato ogni generazione credo abbia un suo Batman la mia generazione nonostante non fosse della mia generazione quel Batman lì però secondo me ricorda questo ve lo ricordate? eh? pensate è la sigla della serie tv Batman che vide la prima volta la luce nel 1966 1966 però la mandavano così tante volte in replica e soprattutto sulle reti che ascoltavamo noi bambini che alla fine è diventata un po' la nostra sigla di tutte le mattine batman 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 beh sì ma era quella lì non l'ascoltavamo tutte le mattine praticamente tutti i giorni cioè qualcosa di pazzesco tra prendersi su youtube ho trovato il un pizzettino anche di una delle primissime puntate fantastico e pensate che nella sigla c'è scritto batman in color perché appunto la prima volta si vedeva a colori è lunedì dobbiamo ascoltare il buongiorno anzi il buon lavoro Poletti buon lavoro a tutti puntata anche questa itinerante dopo Napoli siamo a Milano anzi siamo a San Donato milanese alle mie spalle la sede di Cervet e allora vediamo insieme le tre parole chiave della settimana la prima parola chiave della settimana è leadership il vero leader è colui che riconosce il merito anzi i meriti degli altri protagonista il re del giro d'Italia Tadej Pogacar che si è reso protagonista di gesti che potremmo definire indimenticabili per esempio ha regalato gli occhiali e la maglia rosa al nostro Giulio Pellizzari come dire ti ho superato quando eri al comando ma hai fatto una grande gara da maglia rosa ebbene questa è la lezione di un vero leader colui che è attento agli altri e anzi riconosce i meriti degli altri con gesti veramente speciali la seconda parola chiave della settimana è collegialità cos'è la collegialità la collegialità aumenta la circolazione delle informazioni e delle esperienze rendendo le decisioni in azienda più solide lo ha spiegato bene Paolo Gubitta docente di organizzazione aziendale all'Università di Padova e in un'intervista rilasciata al Corriere del Veneto ha aggiunto attenzione è più conveniente litigare un po' e arrivare alla decisione giusta piuttosto che lasciare il paron il padrone in Veneto solo al comando a prendere una decisione sbagliata collegialità dunque la terza e ultima parola chiave della settimana è telemedicina ascoltate ascoltate per il biennio 24 e 25 2024 2025 Levissima ha previsto il servizio di telemedicina per i 200 dipendenti valtelinesi i dipendenti potranno dunque usufruire di consultazioni generali e specialistiche è la promozione dell'ambiente di lavoro sano di cui parliamo spesse volte qui appunto a buon lavoro e allora buon lavoro a tutti non dimenticate di scrivermi 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 su linkedin o linkedin come si dice in americano per raccontarmi le vostre belle esperienze di lavoro dunque buon lavoro a tutti arrivederci anche su linkedin o linkedin apnea l'abbiamo ascoltata tutta quanta erano qui ascoltavamo per bene sia io che lì stavamo rischiando di perderci l'ingresso ebbene questa era apnea appunto di Emma è una di quelle che forse sta resistendo io devo dire la verità non gli davo così tanta lunga vita dopo Sanremo invece invece forse più di altri non lo so Angelina gli davo invece più lunga vita e non è che forse sta vivendo così tanto a lungo forse l'effetto Eurovision non c'è stato sulla canzone di Angelina Mango non lo so comunque questa è la musica qui su Christian Radio 331 78 535 555 potete scriverci potete raccontarci quello che state facendo potete invitarci ai concerti come ha fatto ad esempio Nello e Alberto che ci hanno mandato l'invito al concerto di Summer Night del The Coral 13 giugno alle 20 e 30 insomma questo è il vostro momento il vostro appuntamento tutte le mattine dalle 7 alle 9 noi cerchiamo di svegliarvi voi potete convividere con noi la vostra giornata oggi è il 27 maggio e chi fa gli anni oggi Bruno Vespa fa 80 anni oggi auguri a Bruno Vespa che fa gli anni e gli fa anche Giuseppe Tornatore il regista ne fa qualcuno in meno 68 anni comunque per Giuseppe Tornatore grande regista appunto italiano grande siciliano sono portato spesso e volentieri la sua Sicilia sul grande schermo e quindi tanti auguri a Bruno Vespa e a Giuseppe Tornatore bravi complimenti andate avanti così si può fare così invece dal campo sportivo pensate che 66 anni fa no scusate ho sbagliato 60 anni fa 60 anni fa l'Inter alza la sua prima Coppa dei Campioni ebbene sì la Coppa dei Campioni del 63 64 l'Inter se la vince e quindi se la porta a casa 60 anni 60 anni fa contro credo se non mi ricordo male il Benfica non era contro il Benfica non mi hanno scritto no semifinale con Borussia Dortmund e l'Inter capitanato non c'è scritto con chi vince non mi hanno scritto incontro a ogni blanco sarà no con il Real Madrid let's all about them time le 7 e ho le 8 e 32 scusate ho visto un attimo mi sono distrato un secondo 8 e 32 minuti qui su Crystal Radio dopo di noi lo sapete ci va sempre ad ascoltare si va tutti insieme ad ascoltare senti questa con Ambrogio Curti che il lunedì però ci dà un po' un'anticipazione su quello che potrebbe succedere durante la settimana o meglio su quello che lui racconterà durante la settimana una sorta di sommario di indice di indicazione di Google Maps della sua trasmissione bene e quindi voglio dare la linea ad Ambrogio che ci racconta appunto che cosa sentiremo questa settimana quindi oggi e tutti gli altri giorni della settimana fino a venerdì dalle 9.05 dopo il giornale radio dopo di noi appunto con senti questa e quindi Ambrogio dimmi tu fammi sapere tu che cosa ascolteremo quale musica quale racconto ci porterai quest'oggi nelle nostre case quali grandi canzoni ci racconterai quali grandi canzoni ci farai ascoltare chissà io sono qua pronto a sentire il tuo sommario sono qua pronto a prendere appunti di tutte le storie bellissime che ci racconti ogni giorno e che tutte le volte appunto ci affascinano e ci rendono davvero sempre cioè tu sei un po' il nostro educatore della musica che tutte le mattine ci racconti ci dai quindi ci insegniamo le cose poi insomma andiamo anche al bar a fare i figli con gli amici così sai che Bruce Springsteen sai che Carmen Consoli sai così perché appunto ci dà queste bellissime dritte e storie sulla grande musica quindi Ambrogio a te la linea fammi sapere un po' che cosa ci farà ascoltare questa settimana Ambrogio Curti con senti questa ma io ma io quelle voci lì le conosco secondo me quel corretto delle voci bianche che c'è alla fine di Ambrogio Curti ho idea di conoscere così mi viene il dubbio di conoscere quel coro altro che The Coro Gospel queste qui sono no no mi sa che chissà comunque grazie mille Ambrogio grazie mille davvero del tuo sommario ricordiamo appunto dopo di noi alle 8 9 05 più o meno di noi 8.56 andiamo in pubblicità giornale radio poi 9.05 più o meno arriva lui arriva lui con un'ora di grande musica e grandi racconti quindi grazie mille ancora ad Ambrogio Curti e grazie anche a tutti voi che ci state scrivendo al 331 7853 555 ricollo ancora grazie mille per l'invito al concerto dei The Coro la Summer Night il 13 giugno alle 20.30 all'istituto pedagogico della resistenza in via degli Anemoni 6 a Milano grazie mille ancora sia a Nello che ad Alberto per l'invito in questo concerto della Summer Night del The Coro in collaborazione appunto con Crystal Radio Crystal Radio che state ascoltando dalle 7 di questa mattina qui con Good Morning Milano ma che potete ascoltare tutti i giorni sul 96.2 FM sulla Dub Plus cioè l'autoradio digitale diciamo che molti di voi hanno in macchina ovunque voi andiate in Lombardia basta schiacciare il bussantino Mode passare alla Dub e seguire scusatemi e seguire la lista dell'emittente sotto la K trovate Crystal Radio con le due L più facile di così dopodiché volendo c'è anche l'app Crystal Radio l'app per il vostro cellulare la scaricate e ci ascoltate dove e quando volete con la musica invece andiamo avanti perché torniamo allora a Sanremo ancora con una canzone che arriva dal Sanremo di quest'anno una Rose Villain milanese ci ha portato una canzone che fa due suoni semplicissimi click e boom questo è il titolo click boom Rose Villain 8 e 42 minuti Crystal Radio good morning Milano click boom Rose Villain eh sì da Sanremo da Milano a Sanremo e andate e ritorno ed avete visto anche sul Netflix nella serie nuova scena che insomma sappiamo essere già in programmazione anche la seconda stagione benissimo comunque torniamo a Milano invece nel weekend sicuramente sarete andati nei parchi a farvi magari una passeggiata una biciclettata a respirare un po' di polline e ad avere l'allergia come il sottoscritto ma arriva l'ultimo aggiornamento del censimento del comune di Milano sugli alberi radiografie del patrimonio arboreo di Milano mezzo milione di piante aceri e platani più diffusi e sì 248.000 alberi singoli in città ok singoli di cui vanno aggiunti 271.000 alberi che fanno parte delle aree boscate credo quindi bosco in città non so i bosco non bosco di rogoreto non so comunque 520.000 in tutto a Milano 27.000 aceri 22.000 platani quindi siete allergico all'acero ecco perché siete sempre malati con il platano che non è la banana quella che si mangia perché sapete che in spagnolo il platano è la banana quella che si mangia e quindi non è quella lì no è una pianta completamente diversa comunque quindi 520.000 alberi più diffusi appunto l'acero poi ci sono ben 12 diverse specie di acero rosso si va dall'acero rosso a quello americano 22.000 platani invece spesso distribuiti nei grandi filari lungo i viali costituiscono molte delle alberature stradali sto leggendo appunto l'articolo di Repubblica la zona più verde è il municipio 8 la zona cittadina dove si trovano più alberi sono ben 48.000 anche grazie all'area verde del Monte Stella sul secondo gradino del podio verde invece chi c'è il municipio 7 ovviamente dove ci sono boschi in città parco di trenno e tanti altri al polo opposto della classifica dei quartieri c'è il municipio 1 quindi ultimo municipio ovvero il centro storico nella città che vede solo la presenza di 14.000 alberi tra Sempione e Giardini di Montanelli quindi insomma quando diciamo che si sta bene in periferia si sta bene anche grazie a quella non tutti gli alberi stanno bene però dice in città quelli attualmente sotto monitoraggio e controllo analisi sono 38.000 cioè l'8% del totale molti si trovano in aree sensibili come le vicinanze di aree giochi di parchi giardini pubblici parecchi sono le vicinanze di fermate di mezzi di trasporto pubblico e devono essere verificati ogni anno oppure in alcuni casi ogni due anni per avere appunto una garanzia di stabilità e ancoraggio al suolo tra le specie più in crisi invece ci sono gli olmi che ad esempio in via Fabio Filzi si è deciso di sostituire con la gledizia una specie di origine americana che riesce ad adattarsi meglio soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo delle radici quindi non andranno a tirare su i marciapiedi una volta era clara adesso c'è molto meno questa cosa ma io mi ricordo quando ero ragazzino quando ero bambino c'erano sempre sui marciapiedi insomma queste radici che venivano fuori e tutto le abbiamo volute togliere adesso ci chiediamo come mai gli alberi vengono giù comunque niente questa è un po' la fotografia degli alberi che ci sono a Milano la città comunque con mezzo milione di piante non penso che sia una città da buttare via sono ben contento che i municipi 8 e 7 siano i primi due municipi più verdi di Milano e quindi fermano la nostra scelta di stare da questa parte della città speriamo che sia invece di ispirazione anche per gli altri municipi che invece magari pensino di mettere più alberi o di fare qualche zona verde nuova magari quando si tira giù qualche ecomostro o qualche zona di smessa chissà qualche pianta in più non fa male Malika Yane è una ragazza alle 8 e 53 minuti quasi in chiusura di puntata quasi in chiusura di Good Morning Milano anzi a pochi secondi dalla nostra sigla prima di salutarci di darci appuntamento domani qui come sempre 331 7853 555 potete sempre scriverci condividere con noi la vostra giornata noi siamo ben contenti di condividerla sempre insieme a voi e voi insomma spero siate contenti di condividerla con noi speriamo che si arrivi sempre tutti ben felici alle 9 quando appunto ci salutiamo o meglio alle 8 e 54 minuti quando parte la nostra sigla lunedì 27 maggio è arrivata la fine anche di questa puntata e l'inizio di una nuova settimana eh sì per ogni fine c'è sempre un nuovo inizio e questo quello che succederà dopo di noi con Ambrogio Curti e senti questa ed è quello che succede oggi per l'inizio della nuova settimana la settimana del 27 di maggio l'ultima settimana di maggio che chiude proprio i battenti poi toccando il primo giugno insomma più facile di così non si può il 2 giugno è festa ma è domenica quindi non è che possono arrivare tutti insieme queste gioie già c'è il meteo che avete visto che bel tempo speriamo che tenga sì era sarcastico è il bel tempo comunque comunque hanno detto che a fine mese il tempo migliora sono tre mesi che ce lo dicono e nel fare ancora gli auguri a Bruno Vespa a Giuseppe Tornatore e a Cesare Cremonini non per il suo compleanno in questo caso ma per il compleanno dei 25 anni di Cristal Radio come si chiama di 50 specie a stazione di Cristal Radio no Cristal Radio ricordate l'ha fatto 40 anni quindi comunque auguri ancora anche a Cristal Radio insomma questa è una giornata di auguri un po' per tutti anche speriamo appunto auguriamoci che il tempo non ci faccia troppo disperare e noi ci risentiamo domani mattina se volete siamo sempre qua dalle 7 alle 9 su Cristal Radio anche su Milano News oppure su goodmorning.milano.it grazie a tutti di averci seguito buona giornata e a presto ciao 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 Grazie a tutti.